15 persone indagate, di cui 5 destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare, in carcere e agli arresti domiciliari. Tutte sono accusate a vario titolo di una serie di furti, commessi ai danni di imprese, aziende agricole e private abitazioni, di un tentativo di rapina e un'estorsione, avvenute in Malle Telesina. Sono questi i numeri dell'operazione denominata Telesia, condotta dai carabinieri della Compagnia di Cerrito Sannitta e coordinata dal sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro. Le persone arrestate, ad eccezione di un ventunenne residente a Benevento, sono di San Salvatore Telesino, di Faicchio e di Teleseterme. Le indagini sono partite a dicembre scorso e sono andate avanti fino a giugno. Durante alcuni furti, gli indagati avevano utilizzato anche rudimentali congegni esplosivi per far saltare casse automatiche all'interno di distributori di carburanti e di sigarette. Tanti gli episodi contestati, durante i quali i banditi avevano rubato gasolio dalle cisterne di imprese agricole. Un gruppo criminale organizzato e che colpiva principalmente i piccoli imprenditori della Valle Telesina e dei centri confinanti in provincia di Caserta, ha ribadito più volte il procuratore aggiunto Giovanni Conso durante la conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il maggiore Alfredo Zerilla, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cerrito Sannitta. Chi lavora onestamente, chi cerca di creare un'impresa sana sul territorio, purtroppo si vede privato del tutto da azioni efferate anche commesse da questi soggetti.